Ciao siamo qui con il coach TRM Michele Pastelli, abbiamo appena finito di correre la DJ10, occasione per provare le nuove Salomon Sonic Pro 2 da strada. In due parole quali sono le caratteristiche che anticipava questo scarpe? Allora come anticipava il coach Cristina Salomon con le Sonic Pro 2 ha definitivamente fatto una scarpa esclusivamente per la strada, capitalizzando quelle che sono le caratteristiche e le tecnologie emancipate nell'esperienza lunghissima sulle scarpe da trail. Ritroviamo alcune delle caratteristiche delle scarpe da trail come per esempio il Sensofit Endofit che è un sistema di avvolgimento del piede con la linguetta elasticizzata per avere un feeling completo della strada. Ritroviamo la soletta in Orgolite per dare un assorbimento dei traumi del piede durante il passo e quindi abbiamo una scarpa totalmente votata alla strada. Michele a cui consiglieresti questa scarpa? La Sonic Pro 2 è una scarpa estremamente leggera e molto reattiva. Da uomo 43, pesa circa 240 grammi, da donna l'equivalente sono 190 grammi. È una scarpa con un drop 8, 16 mm davanti e 24 mm dietro e quindi una scarpa adatta a un corridore che corre con un appoggio sul mesopiede o sull'avampiede. Quindi inizialmente una falcata veloce con un appoggio veloce. Un voto finale complessivo? Direi che è una scarpa che nel complesso guadagno meritevolmente un voto. È una scarpa con cui ho corso la DJ 10, è assolutamente confortevole e tra l'altro è una scarpa che io ho messo nuova e quindi devo dire che è stata una bellissima esperienza. Grazie Michele, state con noi! Grazie Michele, state con noi!